Questa mattina dopo varie telefonate e anche vari interventi presso l'assessorato alle opere pubbliche ho parlato con l'assessore Giorgi, la quale mi ha riferito, quindi ho dato notizia di questa cosa che per quanto riguarda il porto di Fano può cogliere l'opportunità del riposizionamento in mare di alcuni fanghi che sono quelli che ha l'ARPAM misurato catalogando di categoria A e che quindi come in tanti si auspicava si iniziasse laddove possibile a rimettere in mare i fanghi senza costi enormi per il conferimento in discarica come è successo in passato perché non si poteva appunto far diversamente. Adesso questa cosa potrebbe rendere più rapido almeno la messa in sicurezza del porto e credo che sia un'importante iniziativa perché comunque grazie appunto all'assessore Giorgi che poi ha parlato anche con l'autorità portuale di Ancona questa cosa sarà possibile credo per 15.000 metri cubi, quindi è un inizio di un diverso modo di fare il dragaggio e che in qualche modo potrebbe finalmente a vedere anche nelle marche questo tipo di interventi.